In questo canto si descrive la raccapricciante situazione di una donna che per poter vivere vende il proprio corpo a chi può permettersi di pagare mille lire. Storia emblematica della donna moglie di emigrante, rimasta sola in paese, canaglia, sia perché soddisfa i suoi desideri di donna, sia perché è costretta a farlo per sopravvivere, abbandonata dal marito, che si è rifatto una vita all'estero. Ucchakanaya suzululietu Ucchakanaya suzululietu Mal un genio mi tocca lupietu Ucchakanaya suzululietu Ma l'un genio mi tocca lupietu Ucchakanaya suzululietu Damme damme la mille lire Damme damme la mille lire La bambina la faccio morire Ucchakanaya suzululietu La bambina la faccio morire La bambina la faccio morire Ucchakanaya suzulul Se ne dai una sigaretta Se ne dai una sigaretta Mela fumu ku piasere Ucchakanaya suzulul Mela fumu ku piasere Ucchakanaya suzulul Ucchakanaya suzulul Mela fumu ku piasere Ucchakanaya suzulul E se vuoi na Crapa Dua E se vuoi na Crapa Dua Ucci, fucci alla pergola, ucci a canaia oila Ucci, fucci alla pergola, ucci a canaia oila Damme, damme la sigaretta Damme, damme la sigaretta Damme, damme la sigaretta Ucci, fucci alla pergola, ucci a canaia oila Damme, damme la sigaretta Ucci, fucci alla pergola, ucci a canaia oila Ucci, fucci alla pergola, ucci a canaia oila Damme, damme, la mille lire Damme, damme, la mille lire E la bimba la faccio morire Uccia canaia oila E la bimba la faccio morire Uccia canaia oila Uccia canaia oila